Il punto di forza sicuramente è la Barbera sia d'Asti che d'Alba e poi il Nebbiolo e Arneis che sono le tre tipologie forse più importanti sul territorio. Poi ci sono altre, c'è il dolcetto, c'è la bonarda, c'è la fresa e sui bianchi c'è lo chardonnay, c'è il sauvignon, quindi abbiamo una gamma molto ampia. Poi abbiamo fatto anche una scelta di selezione di un prodotto di qualità, selezione già fatta in vigna, quindi che è la Teresa Baude dove abbiamo le tipologie di prodotti dall'Arneis alla Barbera Baricca, alla Barbera selezione superiore, quindi tutta una serie di qualità che stiamo cercando volta in volta di migliorare, di avere un prodotto che possa anche essere non solo di grande mercato ma anche proprio di qualità.